La Lombardia per tradizione riesce ad anticipare i tempi di quelli che possono essere prodotti di volano o prodotti di eccellenza, non fa eccezione per quanto riguarda la birra, il 25% della produzione è qui in Lombardia, ma soprattutto il rapporto sinergico con questo prodotto riguarda non solo le quantità ma soprattutto la qualità, qualità che la birra adesso esprime attraverso prodotti diversificati, artigianali, rosse, nere e dunque c'è un'attenzione anche all'abbinamento enogastronomico, a una formazione di un cliente consapevole che non vede più la birra giusto per intrattenersi o in un modo quasi che si poteva definire ludico, ma la beve proprio con attenzione, con la capacità di fare critica su un prodotto che potrà dare grosse soddisfazioni alla Lombardia, all'intero volano economico e in termini occupazionali.